Oggi la prima lettura di San Paolo è tutta violenta, indossate l'armatura e poi dice la corazza e poi lo scudo e poi le frecce e poi l'elmo. Come mai tanta violenza così? In realtà violenza contro chi? Non contro le persone ma contro quello che lui chiama lo spirito del male e cioè il diavolo. E cosa vuol dire? Vuol dire che noi dobbiamo mettere in conto che il male esiste e lo sappiamo benissimo perché il male è dentro di noi. Ebbene San Paolo ci dice lo potete vincere se avete attorno ai fianchi la verità, addosso la corazza della giustizia, avete lo scudo della fede per poter spegnere le frecce infuocate del maligno. San Paolo ci dice non prendere sotto gamba il male, la tentazione, la cattiveria e la puoi combattere veramente se hai impegno di giustizia, di pace, di fede. Io auguro a tutti voi di saper condurre bene questa battaglia e la vincerete. Buona giornata.